La morte di una persona non è un circo. La morte di una persona è un evento doloroso e difficile da affrontare, sia per chi muore che per chi resta. È un momento in cui la famiglia e gli amici si stringono attorno al defunto per dargli l'ultimo saluto e per sostenersi a vicenda nel dolore. Tuttavia, in alcuni casi, la morte di una persona può diventare un circo mediatico, con persone che si affollano per vedere e fotografare la scena, o che cercano di lucrare sulla tragedia. È quello che è successo a Napoli, dove la morte del tiktoker Lorenzo Della Femine, conosciuto come Mr. Pella Pazzo, ha attirato migliaia di persone che si sono accalcate fuori dall'ospedale dove è avvenuto il decesso. Queste persone, invece di rispettare il dolore della famiglia e degli amici, hanno cercato di approfittare della situazione per fare video e foto da postare sui social. Un comportamento inaccettabile, che dimostra una totale mancanza di rispetto per la morte e per il lutto. La morte è una cosa seria, e non dovrebbe essere trattata come un evento da circo. È un momento in cui la famiglia e gli amici hanno bisogno di tranquillità e di rispetto, per poter affrontare il dolore nel modo migliore possibile. È importante ricordare che la morte è una parte naturale della vita, e che tutti prima o poi ci passeremo. È importante affrontarla con dignità e rispetto, sia per chi muore che per chi resta. In questo caso, la famiglia di Lorenzo della femmine ha chiesto rispetto per il suo lutto, e questo è un diritto che va rispettato. A tutti coloro che hanno partecipato a questo circo mediatico, va un invito a riflettere sul proprio comportamento. La morte non è un'occasione per farsi pubblicità o per fare soldi, ma è un momento di dolore che va rispettato.